Le immagini che vedete sono di 19 anni fa e questo è il momento in cui Hailey viene dimessa e festeggiata da medici e infermieri del St. Jude di Memphis dopo aver sconfitto un cancro alle ossa. Una battaglia dura per lei, la chemioterapia, le è stata amputata anche una gamba, ma il sorriso, allora come ora, non lo ha perso. Oggi Hailey, Archenux, 29 anni, non solo è diventata madre e assistente di sala nell'ospedale oncologico-pediatrico dove è stata curata, ma sarà anche la più giovane americana spedita nell'orbita terrestre. L'annuncio è stato dato proprio dalle corsie del St. Jude. Prima di partire ci sarà una lunga preparazione. Lei in questa missione ricoprirà il ruolo di ufficiale medico. È venuta fuori dal nulla questa chiamata. È il bello della vita che a volte ti sorprende, racconta Hailey. Al di là della soddisfazione personale, il motivo vero per cui è felice di andare nello spazio è di essere fonte di ispirazione e speranza per i suoi piccoli pazienti. Ieri, dice Hailey, una bambina mi stava confidando che è sconvolta perché non può camminare e correre, ma io le ho dato forza dicendo che il fatto di avere una protesi e una gamba non mi impedirà di andare nello spazio. Grazie a tutti.